Deputato Rizzetto, hai chiesto la parola? Prego. Sì, grazie Presidente. Evidentemente non siamo stati sufficientemente convincenti rispetto a questa proposta emendativa. Vado, Presidente, soltanto per mia e vostra informazione, a ricordare, se ci fosse soltanto per qualche secondo l'attenzione dell'Aula, sottosegretario, la nota di agenzia che nella giornata di ieri hanno scritto il Ministro Stefani. Collega Lizzetto, le chiedo scusa, sono costretto a interromperla. Visto che giusto appunto, pochi minuti fa, abbiamo citato la necessità di prestare attenzione massima alla pandemia e al suo contagio. Io vorrei ricordare sommessamente a tutti i deputati che sono artefici e protagonisti di capannelli, di conversazioni, senza che io vada a chiamarli uno per uno, che è necessario rispettare il distanziamento fisico, mantenere sul volto la mascherina e poi un'altra modalità di igiene è quella invece di portare rispetto agli oratori che parlano e quindi di mantenere anche il silenzio. Deputato Rizzetto, lei ha la parola. Sì, la ringrazio Presidente. Stavo dicendo, vado semplicemente a ricordare quanto nella giornata di ieri, dopo di fatto che c'è stato un minimo di dibattito sicuramente virtuoso ed alto, e ringrazio anche i colleghi della maggioranza che hanno sostenuto questa presa di posizione di Fratelli d'Italia che, credetemi, colleghi, almeno per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, non è una presa di posizione ideologica. Tant'è vero che lo stesso capogruppo Lollobrigida ieri ha detto guardate, noi possiamo tranquillamente prendere questo emendamento, farlo firmare da qualcuno della maggioranza e votarlo. così non è stato. La nota di agenzia ieri riportata dal Ministro Stefani e dal Ministro Speranza recita verranno aggiornate le raccomandazioni che stabiliscono le priorità nell'accesso ai vaccini e saranno esplicitate tra le categorie con accesso prioritario. Il Governo ci sta dando ragione di fatto rispetto a questo passaggio, mentre il Governo ci sta dando ragione a questo passaggio, vedo che non annuisce il sottosegretario a questo punto però dovrebbe rivolgersi al Ministro Speranza e alla Ministra Stefani sotto questo punto di vista perché hanno scritto questo ieri in un'agenzia i due ministri, di fatto ci stanno dando ragione i ministri ci danno ragione, il Parlamento e la maggioranza ci dà torto. Allora c'è un cortocircuito rispetto a questo tema, c'è un qualcosa che non funziona. Ieri noi abbiamo lanciato il nostro appello, la cosa si può votare, non pensiamo che sia un qualcosa di assolutamente assurdo da votare, anzi siamo qui a ribadire, votate questo emendamento perché ad oggi in Italia non esiste un protocollo unico rispetto a tutte le regioni. Io guardi il Presidente e il Sottosegretario, stamattina ero immeritatamente in diretta in una trasmissione con la collega Zampa e la collega Zampa dice guarda che questa cosa qui c'è già. No, non c'è già perché se ci fosse già evidentemente chiaramente il Ministro Speranza non si sarebbe espresso in questi temi. Allora esiste a livello regionale una corsia giustamente preferenziale per quanto riguarda lavoratori fragili, per quanto riguarda malati oncologici gravi, per quanto riguarda disabili, ma non è uniformata a quello che fondamentalmente dovrebbe essere un protocollo nazionale che faccia partire dalla stessa linea di partenza tutte le regioni. Noi non vogliamo che ci siano sorpassi a destra e a sinistra da parte di coloro che evidentemente vogliono fare più o meno prima il vaccino di altri. Ci mancherebbe altro. Quello che stiamo dicendo oggi e stiamo ribadendo oggi in aula è che semplicemente alcune categorie debbono essere vaccinate subito. Lo ricordava ieri la collega Baldini, tra le persone con una mortalità in termini percentuali più alta ci sono le persone disabili, lo ricordava ieri la collega. E allora perché non applicare questo principio di buonsenso laddove il principio di buonsenso dovrebbe essere votato che è la casa degli italiani che si chiama Parlamento. Allora noi in questo caso non ritiriamo la proposta emendativa, evidentemente poi ci saranno degli ordini del giorno, che riterremo utile o non utile votare e presentare, perché se ci verranno presentati degli ordini del giorno laddove ci sarà scritto a valutare eventualmente l'opportunità di, ve li tenete, ve li tenete, ma quello che noi stiamo portando avanti in quest'Aula è una legittima battaglia che non dovrebbe neanche avere bandiere politiche, dovrebbe essere propria di tutto il Parlamento, dovrebbe essere propria di tutti i deputati che hanno a cuore la salute dei propri concittadini. Perché dopo il sottosegretario sa che cosa succede? Succede che quando queste persone vengono lasciate indietro in qualche regione, magari non in tutte, ma in qualche regione vengono lasciate indietro, sicuramente non per colpa dei presidenti di regione in questo caso, succede che in altre regioni invece ci sono delle scappatoie, ci sono delle vie preferenziali rispetto anche a persone che oggi si vanno a vaccinare ma che non ne avrebbero oggi la necessità. Il caso della regione toscana mi pare che sia assolutamente evidente. Allora con che faccia noi ci presentiamo di fronte a questi concittadini, di fronte a questi nostri concittadini? Concludo dicendo, Presidente, che noi non ritiriamo l'emendamento e a questo punto voglio proprio capire chi tra questi deputati cercherà di dare una mano ad un emendamento di buonsenso, ad una proposta di buonsenso che dovrebbe essere lo rinnovo, fatta propria da parte di tutto il Parlamento e non soltanto fatta propria di un'opposizione che in questo caso è per l'ennesima volta ha le mani libere di dire che noi, voglio dire, rispetto al vostro diniego non ci stiamo. La ringrazio, ho chiesto di parlare a titolo personale per un minuto la deputata Albano. Prego, a lei la parola, deputata Albano. Grazie, Presidente. Mi perdoni, io intervengo per amore di verità e per andare a, diciamo, valutare, controbattere al fatto che sono state formulate in questa aula delle accuse verso il Presidente Acquarali e sono prive di fondamento. Come abbiamo visto le priorità vaccinali sono date dal Governo, le linee sono state votate dal Parlamento e le Regioni devono seguire le linee guida date dal Commissario straordinario. Quindi la Regione Marche non ha potuto ancora vaccinare i più fragili proprio perché mancano dei protocolli a livello nazionale. Per accelerare poi questa possibilità mancano i vaccini. I vaccini non sono stati dati dal Governo Conte 2. e poi perché se una forza politica da una parte presenta mozioni a favore di questo emendamento poi all'interno di questa Camera vota contro, non consentendo che tutto questo possa essere... Ecco, noi non lo capiamo perché i nostri principi sono mossi da... Ringrazio. ...coerenza e buon governo. Grazie. Mi chiedo di operare il deputato all'obbligio di attività personale per un minuto. Avevamo ieri discusso di questo tema, l'altro ieri anche, abbiamo chiesto di poter vaccinare da subito le categorie fragili. Abbiamo ricevuto da parte di molti colleghi, anche di maggioranza, l'assenza a questa formula e a questo emendamento. Devo dire, come al solito, però la maggioranza non è riuscita a creare un meccanismo che ci permettesse di arrivare a dare una formula corretta per poter arrivare all'obiettivo che ci siamo posti con grande serenità. E noi manteniamo questo emendamento perché stasera si può arrivare alla soluzione votandolo. Altre strade sono già state percorse, per stessa ammissione una collega del Movimento 5 Stelle ha detto quello che è scritto negli ordini del giorno, già l'avevamo scritto, ma il Governo non lo ha fatto. E allora non facciamo scorciatoie. Questa è l'unica soluzione possibile. Chi voterà a favore permetterà le categorie fragili di essere vaccinati fin da subito. Quelli che voteranno contro fanno una scelta diversa di rinvio che non è condivisibile da Fratelli d'Italia. La ringrazio.